Il gel bullet di Aya è un gel costruttore trifasico, che quindi necessita di base bonder e di finish diversi, dalla colorazione camouflage. Ha una tonalità color rosa con fetto molto tenue e grazie alla sua colorazione può essere utilizzato per coprire le imperfezioni dell'unghia, lo scalino della tip o l'unghia naturale nel caso di una French Manicure. Può essere utilizzato anche per creare l'allungamento del letto ungueale per la Manicure French. È un gel tisotropico, quindi nonostante sia ad alta densità, è molto morbido e autolivellante. Se lavorato delicatamente non cola, aiutando quindi a creare una perfetta bombatura in maniera facile e veloce. È un gel privo di acidi, molto resistente, ma allo stesso tempo flessibile, e quindi per questo sconsigliato per onicofagiche o ricostruzioni estreme. È però molto adatto a coperture o refill o ricostruzioni di media lunghezza. Catalizza molto velocemente in lampada. Infatti, se dosato eccessivamente o con le alte temperature, può creare calore in lampada. Per evitare il bruciore in lampada, consigliamo di utilizzare poco prodotto o la modalità soft della lampada di ODI. In caso di unghie danneggiate, è sempre bene evitarlo come primo trattamento. Catalizza in 120 secondi in lampada UV, in 60 secondi in lampada LED ODI e in 90 secondi in lampada CCFL. Ciao! Ciao! Ciao!